Sì, buongiorno a tutti i presenti del convegno. Ringrazio il Monsignor Francesco Savino che ha avuto questa bellissima idea di ricordare la figura di Don Giacomo Tantardini come studioso di Agostino e anche il Centro Culturale Angelone di Castrovillari che si è fatto promotore di questa bella iniziativa. Il tema che avete proposto è Don Giacomo Tantardini e Sant'Agostino lo stupore di un incontro. Io ripercorro brevemente come nasce questo interesse da parte di Don Giacomo che negli ultimi anni è stato docente di teologia fondamentale presso la Pontificia Università San Bonaventura di Roma. L'interesse di Don Giacomo per Agostino risale ai primi anni 90. Lo posso dire con cognizione di causa perché fui proprio io a firmare sul settimanale Il Sabato nel giugno del 1993 un articolo che portava il titolo Ritorno ad Agostino, un articolo che fu discusso a lungo proprio con lui e di cui lui fu l'ispiratore, aveva suggerito lui le idee portanti. Ebbene quell'interesse per Don Giacomo, quell'interesse per Agostino che allora non era scontato anche nel panorama culturale Agostino all'inizio degli anni 90 in Italia, non si può dire che fosse un autore di riferimento. Quell'interesse si precisa poi dopo la chiusura del settimanale Il Sabato alla fine del 1993 in una serie di articoli apparsi sul mensile 30 giorni che era il mensile internazionale della Chiesa nel mondo, diretto che sarà diretto poi da Giulio Andreotti ma che aveva il suo vero direttore teologico proprio nella figura di Don Giacomo, una serie di articoli da parte dei giornalisti e di altri protagonisti anche intellettuali del mensile. Questi articoli furono raccolti nel 1998 in un volume, il titolo era Il potere e la grazia attualità di Sant'Agostino che ricava appunto la prefazione di Giulio Andreotti. Il volume fu presentato a Roma dall'allora cardinale Ratzinger il 21 settembre del 1998 alla Camera dei Diputati. quindi ero presente a quel momento e ricordo benissimo l'interesse portato a questo volume e il cardinale e allora il cardinale Ratzinger dirà espressamente in quell'occasione, vi ritrovo il testo esatto, eccolo qui, sì, ebbe modo di dire il cardinale dice quello che mi arreca realmente gioia è il fatto che una rivista di informazione come 30 giorni abbia presentato per mesi al grande pubblico questa figura, appunto la figura di Sant'Agostino, in un dialogo con il nostro tempo, un dialogo che realmente evidenzia la profondità e l'attualità del suo pensiero. Questo fatto che Sant'Agostino diventa accessibile alle nostre domande e nella nostra attualità è il mio motivo di gioia. Così il cardinale Ratzinger. Ebbene la cosa interessante è che il mio articolo del 93 appunto ispirato e discusso con Don Giacomo, che ricava il titolo Ritorno ad Agostino, ebbene legava la riscoperta agostiniana ad un altro autore del quale nel 1993 era uscito un volume dal titolo Un avvenimento di vita, cioè una storia, e l'autore era Don Luigi Giussani. Don Giacomo, poiché l'idea di associare i due autori proveniva da lui, univa cioè in un filo d'oro Giussani ed Agostino. Leggeva Giussani agostinianamente e Agostino giussaniamente, potremmo dire. Questo era stato perfettamente intuito da un grande esperto di Agostino in Italia, forse il più insigne studioso di Agostino in Italia di questi ultimi anni, che era padre Nello Cipriani, docente presso l'istituto patristico Augustunianum, il quale nella sua prefazione al volume di Don Giacomo, che ricava il titolo Il cuore e la grazia, Il cuore e la grazia in Sant'Agostino distinzione e corrispondenza, e scriveva testualmente così, nello padre Nello Cipriani. L'idea che si diventa e si rimane cristiani perché si prova un piacere nell'aderire a Gesù Cristo non è solo di Agostino, ma anche di Don Giussani, autore di un libro intitolato L'attrattiva Gesù. Io credo che Don Giacomo abbia colto la profonda consonanza esistente tra l'esperienza cristiana vissuta e proposta tanti secoli fa da Sant'Agostino e quella proposta oggi da Don Giussani e per questo motivo abbia scelto i testi agostiniani come guida delle sue lezioni. Quindi Nello Cipriani coglieva con intelligenza questo filo rosso tra il grande padre della Chiesa e il grande educatore Don Luigi Giussani, forse il più grande educatore cattolico italiano del secolo passato. Don Giacomo coglieva la consonanza tra l'esperienza cristiana vissuta proposta ad Agostino e quella proposta da Giussani. Si trattava di esperienza cristiana, non di una visione cristiana o di idee cristiane. Si trattava cioè del fattore che può permettere ad un uomo di oggi, ad un pagano del nostro tempo, di divenire esistenzialmente cristiano. Ebbene dove risiede questo fattore? Il cardinale Bergoglio, che conosceva bene Don Giacomo perché ogni volta che veniva a Roma, come lui stesso ha testimoniato in un articolo, in un'intervista apparsa in italiano, ebbene ogni volta che veniva a Roma andava a trovare Don Giacomo, quindi era uno dei suoi amici romani diciamo, ebbene il cardinale Bergoglio lo scrive nella sua prefazione al volume, ad un altro volume di Don Giacomo che reca il titolo Il tempo della Chiesa secondo Agostino. Cosa scrive il cardinale Bergoglio? Vi leggo anche qui il passo, dice si può arrivare a scoprire che solo in Dio c'è la felicità, ma questo sapere non commuove di per sé il cuore. Il cuore rimane triste e pieno di sé, non si scioglie in lacrime di riconoscenza. Invece quando uno è preso in braccio dal Signore e abbraccia umile l'umile mio Dio Gesù, senza nemmeno pensarci, diventa pieno di gratitudine e dice grazie. E in questa gratitudine diventa anche buono. Don Giacomo scrive che si è buoni non perché si sa che cosa è il bene, si è contenti non perché si sa che cos'è la felicità. Si è buoni e si è felici perché si è abbracciati dal bene e dalla felicità. È il brano del vostro invito, come ho potuto leggere diciamo così nell'invito che avete mandato online. Ebbene la pagina di Bergoglio rimandava esattamente a delle pagine di Don Giacomo, sempre contenute nel tempo della chiesa, che leggo qui con voi per farvi capire dove sta il punto di interesse di Don Giacomo per il modo esistenziale con cui Agostino comunica l'incontro cristiano. Così si evidenzia, dice Don Giacomo, il perché diventa cristiano, il perché Agostino diventa cristiano. A nulla serve sapere che la felicità è in Dio se non è possibile godere della felicità che è Dio. Agostino esprime questa cosa dicendo che questo godimento non è stato possibile finché non ho abbracciato, scrive Agostino, il mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Gesù Cristo. Dice proprio così, finché non ho abbracciato. E subito aggiunge, sapevo che la felicità è godere di Dio, ma l'esperienza di questa felicità mi era impossibile, perché umile non abbracciavo l'umile mio Dio Gesù. Questa frase, commenta, abbracciare umile, l'umile mio Dio Gesù, indica, scrive Don Giacomo, il cuore dell'esperienza cristiana da duemila anni, indica il cuore di Agostino. Non si comprende l'attualità di Sant'Agostino se non si comprende che per Agostino l'orizzonte e il fine del cammino al vero e di ogni passo del cammino al vero è la felicità. Non edifica il cuore la verità se non diletta, se non rende il cuore contento. L'espressione di Agostino nutre l'animo solo ciò che lo riende lieto? Mi sembra esprimere ciò che rende così vicino Agostino all'uomo di oggi, così vicino a ciascuno di noi, scrive Don Giacomo. Quindi l'attualità di Agostino sta nel passaggio dall'idea di Dio e della felicità alla realtà di Cristo e allo stupore commosso e lieto del cuore. Dalla nozione all'esperienza, poiché solo l'esperienza rende lieti in termini agostiniani dalla presunzio alla confessio. Don Giacomo dava così corpo all'idea di fondo contenuta nel volume di Giussani, di Don Giussani, l'attrattiva Gesù che era uscito nel 1999, uno dei libri più belli secondo lui che mai Giussani avesse composto. Perché l'attrattiva Gesù, questo titolo così significativo, l'attrattiva Gesù, ebbene coincide con l'agostiniano fruideo, il godere di Dio. A partire dai primi anni 90 Agostino entra così nella riflessione di Don Giacomo, Agostino attuale per il cristianesimo di oggi. Le sue prime lezioni su Agostino sono nel 1998-99 e poi nel 2000-2001, in due anni accademici distinti presso l'Università San Pio V di Roma, e vengono a costituire rispettivamente il contenuto di due volumi. Il primo, Invito alla lettura di Sant'Agostino, viene edito dall'Associazione San Gabriele nel 2003 e contiene le lezioni del 98-99. Il secondo, Senso religioso, Peccato originale, Fede in Sant'Agostino, viene edito dal mensile 30 giorni nel 2006 e raccoglie le lezioni del 2000-2001. Seguiranno poi le lezioni all'Università di Padova, lezioni promosse dal rettore stesso dell'Università di Padova, che costituiranno un avvenimento culturale per molti anni, con la partecipazione di docenti, di moltissimi studenti, di professori universitari, e saranno un avvenimento culturale, mediatico, in cui l'autorità di Agostino torna a risplendere nelle aule accademiche, ma in maniera non accademica, pur essendo supportato dalla grande cognizione che nel frattempo Don Giacomo aveva assimilato dell'opera e della figura di Agostino. Ebbene, usciranno di queste lezioni anche qui due volumi. Il primo è Il cuore e la grazia in Sant'Agostino, distinzione e corrispondenza, edito da Città Nuova nel 2006, che raccoglierà le lezioni degli anni accademici 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005. Il secondo volume è, porta il titolo Il tempo della Chiesa secondo Agostino, seguire e rimanere in attesa la felicità in speranza, edito da Città Nuova nel 2010 e raccoglie le lezioni padovane degli anni accademici 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008. I quattro volumi raccolgono così le lezioni agostiniane di otto anni accademici, divisi tra la San Pio V, due anni, e l'Università di Padova, sei anni. Rappresentano un contributo essenziale perché Agostino viene tolto dalla polvere dell'erudizione e diveniva un autore contemporaneo per la Chiesa di oggi, un autore che veniva rilanciato in tutto il mondo anche grazie ai numerosi articoli che nel frattempo uscirono nella rivista nel mensile 30 giorni, che aveva l'edizione, non solo l'edizione italiana, ma aveva anche l'edizione inglese, francese, spagnola, portoghese. Quindi in tutto il mondo venivano rilanciati questi articoli e hanno permesso davvero di far comprendere quanto la figura e l'opera di Agostino potesse essere attuale proprio per il cristianesimo contemporaneo. Io qui, per essere breve, mi permetto soltanto di ricordare il contenuto dei primi due volumi di quelli che danno l'avvio a questa ricerca di Agostino. Ebbene, nel primo, invito alla lettura di Sant'Agostino, Don Giacomo espone proprio l'Agostino che gli è caro, il cuore di Agostino, cioè l'Agostino del primato della grazia. L'Agostino per cui il cristianesimo è solo ed eminentemente avvenimento di grazia, cioè è solo eminentemente dono. E naturalmente questo non soltanto per una questione di studio di Agostino, ma perché Don Giacomo era convinto che questo, proprio questa prospettiva, aiutasse a capire e a sanare una condizione della fede della Chiesa che nel corso degli anni 80-90 del secolo passato presentava evidenti segni di indurimento, di diremmo burocratizzazione. Nella terminologia del Papa attuale, di Papa Francesco, evidenti segni di clericalismo, cioè una Chiesa che si era ormai irrigidita nelle proprie opere, nel proprio fare, una Chiesa che concepiva se stessa come il frutto del proprio operare e non più come il risultato dell'operare gratuito da parte di Dio stesso. Non a caso l'autore che è più citato in queste lezioni insieme ad Agostino, Don Giussani, il terzo autore che ritorna costantemente è il grande poeta francese Charles Péguy. Il nome di Péguy ritorna con assoluta frequenza perché è l'autore che più ha denunciato il clericalismo, che più ha avuto la percezione che il cristianesimo era un dono assolutamente gratuito, che come tale andava riconosciuto nello stupore, nella gratitudine, alla grazia corrisponde la gratitudine. La fede cristiana non è una proprietà dell'uomo, non è l'esito della nostra intelligenza e delle nostre capacità, ma è un dono assolutamente gratuito e immeritato. È il riverbero della presenza di Dio nel nostro cuore che come tale va riconosciuto con assoluta humilitas e gratitudine. Su questo punto vi è un'assoluta consonanza con Papa Francesco, che naturalmente Don Giacomo non ha potuto vedere nelle vesti di Papa, ma negli anni della loro conoscenza è molto probabile che ci fosse questa sintonia di fondo proprio su questo, sia nella percezione dei problemi della Chiesa contemporanea, sia nella soluzione di questi problemi che veniva percepita con uno stesso cuore. Quindi il cristianesimo, in questo primo volume dedicato ad Agostino, quindi invito alla lettura di Sant'Agostino, il cristianesimo, come Don Giacomo lo evince dalle pagine di Agostino, non è una teologia politica, il cristianesimo non si modula nella dialettica tra amico e nemico, non nell'idea della rivincita o della guerra o della lotta. Questo perché in Agostino le due città, la città di Dio e la città del mondo, non sono la Chiesa e lo Stato, non sono due mondi contrapposti visibilmente, non sono due fortilizi che nell'ambito pubblico si scontrano. Le due città, dice Agostino, sono perplexe, cioè sono mescolate, sono città mistiche. Solo Dio conosce i cuori e solo Dio saprà dire chi della città di Dio si salverà alla fine e chi si perderà e chi della città del mondo si salverà e si perderà, perché ci sono coloro che sono dei nostri, come dice Agostino, che si perderanno e coloro che sono dell'altra città che si salveranno e quindi alcuni dei nostri nemici saranno amici e alcuni dei nostri amici poi si riveleranno distanti. E nelle pagine finali del suo volume Don Giacomo scriveva, sempre seguendo lo spirito e la lettera del testo agostiniano, dice lo stupore della grazia è imparagonabile, non è in dialettica, non è contro. Non solo il cristiano non vive un atteggiamento di superiorità e di pretesa, ma vive paradossalmente in uno stupefatto paragone, come chiedendo perdono agli uomini fratelli di una immeritata predilezione. Anche per questo, scrive Ratzinger, l'idea di una cristianizzazione dello Stato e del mondo non appartiene decisamente ai punti programmatici di Agostino. E ancora, perplexe sono le due città. Infatti queste due città in questo mondo sono confuse e mischiate l'una con l'altro, così Agostino. E commenta Don Giacomo, la Chiesa non è una città fortificata di fronte contro il mondo. La Chiesa, per esempio, non è l'Occidente cristiano di fronte o contro il mondo dell'Islam. Quanto profetiche sono queste affermazioni, se pensiamo poi a quello appunto che accade dopo l'abbattimento delle torri gemelle. La Chiesa, per usare un'immagine di Giussani nel libro L'attrattiva Gesù, vive come un filo di tenerezza e di adesione, che può raggiungere ogni uomo. Così che accade un continuo passaggio tra le due città. Coloro che in questo momento sono considerati e possono essere lontani, incontrando quella attrattiva, diventano cittadini della città di Dio, testimoni a loro stessi e agli altri dell'operare della grazia. Possibilità di stupore e di consolazione per tutti. Per questo il cristiano non fa crociate e non lancia sfide a nessuno. Come ha detto Paolo VI, il papa dell'Ecclesiam Suam, riguardo alla costruzione della moschea a Roma, ha ricordato recentemente al meeting di Rimini il senatore Andreotti, che non solo Papa Montini non si è opposto, ma a chi gli faceva presente che avrebbe dovuto ottenere la reciprocità, rispose che la Chiesa non si abbassava a tale livello. Quindi questo era il contenuto, diciamo così, del primo volume, dove è evidente come l'Agostino di Don Giacomo non è semplicemente l'oggetto di un'attenzione spirituale, diciamo così. No, Don Giacomo rilegge Agostino per rileggere la Chiesa di oggi, per rileggere il cristianesimo, per rileggere l'umanità di oggi, per rileggere come l'avvenimento cristiano possa nascere e porsi dentro il mondo di oggi. Questo tipo di lettura la ritroviamo anche nel secondo volume che lui dedica ad Agostino, che porta il titolo Senso religioso, peccato originale e fede in Sant'Agostino. Qui, dopo aver richiamato la lettera di San Paolo a Tito, e dopo aver osservato come la dottrina senza lo spirito è lettera che uccide, perché è lo spirito che fa vivere la lettera, è lo spirito che porta alla luce, manifesta, esprime la carità, l'amore, cioè, dice Don Giacomo, l'attrattiva Gesù. Vedete questo titolo dell'opera di Luigi Giussani come è centrale nella sua lettura agostiniana. È lo spirito, quindi, che suscita un desiderio buono. L'uomo, dopo il peccato originale, non è capace di suscitare un desiderio buono, di seguire l'inclinazione buona della sua natura, perché ogni volta è come curvato, diciamo. Occorre, scrive Don Giacomo, un'attrattiva che attinga dove il desiderio nasce, e questo si può solo domandare. L'attrattiva buona, cioè la carità, in termini agostiniani la delectatio, sta nell'abbraccio dell'unità. La dottrina, la legge, senza la delectatio, cioè senza l'attrattiva, è lettera che uccide. Anche i dieci comandamenti, senza la delectatio, possono diventare, come dice Paolo, fonte della nostra condanna, del nostro giudizio, fonte di tristezza infinita, non di gioia. Si conosce solo nella gratitudine e nello stupore, scrive Don Giacomo. Ebbene, per vincere il peccato, occorre allora un'altra attrattiva che desti il desiderio, un'altra cosa più bella. Ecco, ci vuole qualcosa di più bello, questo termine torna più volte. Il bene deve essere più bello, perché anche il male ha una sua attrattiva, e quindi per poter vincere l'attrattiva del male, secondo Agostino, il bene deve avere un'attrattiva più grande. E questo porta Don Giacomo ad affermare che si può riconoscere l'esistenza e la realtà di Dio o di una persona solo nella gratitudine. Ecco, per vincere l'attrattiva del male Dio deve essere una presenza reale, deve essere avvertito come reale, come presente, come ciò che ti abbraccia. Ma questo è possibile solo nella gratitudine, nella percezione di una presenza che ti abbraccia. E qui Don Giacomo citava, si rifà moltissimo a un testo di, ancora una volta, di Luigi Giussani, L'autocoscienza del cosmo, dove Giussani parlava di una conoscenza amorosa, cioè una conoscenza della realtà, è possibile solo se è una conoscenza amorosa. Per noi le persone sono reali solo se vogliamo bene loro, solo se siamo amati da loro, è solo in un'affezione reale che l'esistenza degli altri diventa veramente esistente. In fondo incontriamo tantissime persone, ma del loro destino non ci importa nulla, sono come dei fantasmi, delle ombre, ma quando è che un altro diventa reale per noi? Quando gli vogliamo bene o quando siamo voluti bene da lui. E c'erano delle pagine molto belle di Giussani proprio su questa conoscenza amorosa. E Giacomo ne fa tesoro perché trova la modalità di conoscenza di Agostino esattamente sulla stessa linea e scrive nel suo volume Senso religioso, Peccato originale, Fede in Sant'Agostino, scrive in questa maniera, no? Dice, è la condizione stessa del riconoscimento ragionevole dell'esistenza del mistero. È che non lo si riconosce come mistero, cioè come è realmente, se non rendendogli grazie. Cioè il rapporto con Dio diventa reale quando passa dalla semplice nozione di Dio, che possono avere tutti gli uomini, anche gli altri in fondo hanno la nozione di Dio. Ma diventa reale per l'uomo quando attraversa il suo cuore, cioè quando l'uomo rende grazie a questa presenza, perché la sente vicina, perché la sente presente, perché la sente carica di misericordia. E aggiunge Don Giacomo, un essere vivente e personale non lo si riconosce esistente se non nella percezione che è buono per te. Il come un bambino, il ma come è bello, sono dell'essenza stessa del conoscere una realtà vivente e personale, appartengono alla stessa dinamica del conoscere una realtà vivente e personale. Le pagine bellissime di Giussani e l'autocoscienza del cosmo esprimono questa cosa. Quindi è la gratitudine che fa la differenza. Questo per Agostino è il punto cardine. Quando Agostino aveva conosciuto i platonici, aveva conosciuto attraverso la filosofia di Platone questa concezione altissima della divinità e aveva anche compreso filosoficamente che solo in Dio si può essere felici. Ma tutto questo non lo aveva mosso alla gratitudine. L'idea astratta di Dio non muove il cuore dell'uomo ad essere grati. E allora ciò che fa la differenza è la gratitudine, perché la gratitudine corrisponde a qualcosa di reale, ad una presenza reale, ad un Dio veramente esistente, ad un Dio reale, al volto di Cristo che diventa la manifestazione della misericordia di Dio. E Don Giacomo nel suo volume oppone costantemente la gratitudine all'agnosi, cioè alla presunzione della conoscenza di impossessarsi di Dio, quasi che Dio sia un nostro possesso. E questo è un rischio che sempre il credente ha di ridurre Dio ad un'idea, a qualcosa che si possiede, a qualcosa che ti definisce come un'identità nel senso di un'identità politica, di un'identità di potere, di un'identità di appartenenza. Gott mit tuns, Dio è con noi, ma questo Dio non è più il Dio che opera, il Dio reale, ma è una proiezione del nostro desiderio, delle nostre ambizioni, del nostro bisogno di trovare un punto fermo, diciamo così. E in termini agostiniani tutto questo porta all'opposizione, dice Don Giacomo, tra la presunzione, la presunzio e il riconoscimento, cioè la confessio. La confessio è del riconoscimento umile e grato di una presenza che non è in nostro possesso. È come la Maddalena, che lo riconosce risorto, ma non può catturarlo, non mi trattenere, dice Gesù alla Maddalena. Ebbene tutto questo Giacomo lo capisce, dice lui, nel volume vi sono anche alcune confessioni, anche personali molto interessanti, nel maggio del 78. Perché? Perché è allora che, afferma nel volume, dice, e questo è accaduto nel maggio del 78, vedendo quello che gratuitamente capitava ad alcuni ragazzi nella facoltà di lettere e filosofia di Roma. È stato come guardare stupito per la prima volta l'operare della grazia. Non ricordo, nella mia vita, un momento più importante di quello. Un momento che gratuitamente fiorì come una grazia nuova, dentro un percorso di dedizione sincera. Ma quel momento di grazia era imparagonabile all'entusiasmo della dedizione. Come Giussani disse davanti a tutti, l'entusiasmo della dedizione è imparagonabile all'entusiasmo della bellezza. Cioè non c'è dedizione che tenga di fronte all'operare di Dio. Quando Dio si manifesta chiede solo di essere riconosciuto. Quando Dio si manifesta la grazia è una bellezza, non è uno sforzo, non è una fatica che nasce dall'impegno tutto umano, no? Non si tratta più di impegnarsi, ma si tratta semplicemente di guardare, di riconoscere, di riconoscere con gratitudine come Dio opera nella vita. Ecco, nel maggio del 78 Don Giacomo intuisce quello che poi leggerà nelle pagine di Agostino. Cioè che il cristianesimo non andava fatto, il cristianesimo andava guardato e da questa commozione, da questo riconoscimento nasce la vita nuova e quindi la comunicazione della fede medesima. Lo ribadisce ancora nelle pagine del volume, quando dirà... E così, quando il Signore mi ha dato la grazia di riconoscere la bellezza del suo gire, da quel momento il desiderio del mio povero cuore, quando è toccato dalla sua grazia, è di vedere quello che il Signore opera, cioè il rendersi visibile della sua grazia nelle opere buone. Da qui la profonda nella consonanza tra Don Giacomo e Agostino nella consapevolezza che ciò che urge nel mondo di oggi è la comunicazione dell'esperienza di quel primerea che Papa Francesco, in tutti i modi, instancabilmente, ripete agli uomini di oggi. Grazie, arrivederci.